Giovedì 26 aprile 2012, buona giornata. Intitolerò questo video 25 aprile, perché voglio un attimo parlare del 25 aprile e usare questo 25 aprile come tema di riflessione odierna. E uno potrebbe dire, vabbè dovevi farlo ieri perché lo fai oggi. Lo faccio ieri perché passata la festa a Gabato Lusantu, come si suol dire, si riflette meglio. È come sgridare il bambino quando è nel momento del capriccio, risolvi ben poco. Se lo sgridi dopo magari riesci a rifletterci un po', o meglio sgridarlo subito sarebbe bene, ma cercare di spiegargli il problema dopo, perché nel momento in cui sta commettendo il capriccio, tu lo sgridi, c'è uno scontro e in quel momento lui non connette, non ragiona. Deve solo magari sentirsi un attimino punito, ma non riesce a riflettere su quanto gli sta accadendo. Va preso dopo a freddo, oppure come quando, che ne so, avete una delusione d'amore, non riuscite a ragionare, a vedere il problema mente serena subito, lo vedete dopo. E' così un po' in tutte le cose, insomma. Potremmo stare qui fino domani mattina a fare esempi su esempi, ma tanto la menata sempre quella è giusto per essere terra a terra. 25 aprile, giornata della liberazione. L'avete festeggiata? Festeggiata bene? Sono contento per voi. Cerchiamo però di fare una riflessione, così l'anno prossimo si riuscirà a festeggiare ancora meglio di quanto si possa essere riusciti quest'anno. 25 aprile, festa della liberazione. E qui senza andare a prendere troppo in profondità la faccenda, vorrei limitarmi a una cosa di non poco conto, ma comunque una cosa tutto sommato anche semplice. Festa della liberazione, molta gente ha dato la vita per la nostra libertà. E per la libertà che sarà dai nostri figli anche. Per la libertà dell'umanità. Si è fatta ammazzare. Molta gente si sta facendo ancora ammazzare per la libertà. E per la difesa dei propri diritti. E chi ha dato e chi dà la vita per questa libertà? In cambio cosa ha? In cambio cosa ha avuto chi ha dato la libertà per noi? Per darci un futuro migliore. Cosa vede in questo momento? Ci vede liberi? Certo, ci vede liberi dalla dittatura che avevamo una volta. Ma siamo veramente liberi? Di pensare, forse, per il momento, ma non di agire come vogliamo noi. Dobbiamo comunque sottostare a determinate regole di sistema, giuste o sbagliate che siano, che ci piacciono o che non ci piacciono. Non dobbiamo credere in noi stessi, ma nel sistema, che ci piaccia o non ci piaccia. Siamo costretti a essere servi della gleba, che ci piaccia o non ci piaccia. Siamo liberi da un sistema dittatoriale, ma succubi di un sistema capitalista. Ci siamo liberati dalla forca, dalla pena di morte, dal razzismo, ma ci siamo impadroniti di un finto buonismo di facciata. ci siamo impadroniti di uccidere il nostro libero arbitrio. Lo facciamo noi, ci autopuniamo. E ci siamo impadroniti anche di acclamare una libertà che non abbiamo. E uno potrebbe dire, Tu, in questo momento, però, alla fine sei libero di parlare davanti a questo computer, davanti a questo video. Una volta non lo potevi nemmeno fare. È vero. Sono libero di parlare davanti a questo video e a questo microfono, fino al momento in cui non darò fastidio ai grandi mezzi di informazione. Nel momento in cui dovessi dar fastidio ai grandi mezzi di informazione e al sistema, troverebbero sicuramente il modo per farmi sedere con qualche commensale corrotto e darmi la polpetta avvelenata. O stai a tavola e mangi con noi e ti sporchi le mani, oppure in qualche modo te le facciamo sporcare e poi al momento opportuno ti diamo la polpetta avvelenata. Se ne sentono di tutti i colori in questi giorni, il Movimento 5 Stelle, essendo un movimento popolare, sta dando parecchio fastidio perché è guai. Solo la sommossa popolare può cambiare il sistema e non lo vogliono perché hanno paura della sommossa popolare, temono il popolo. Il popolino va tenuto nell'ignoranza perché se si ribella sono guai. Dobbiamo dargli tutti i privilegi purché si lasci nell'ignoranza, se no sono veramente guai. E allora si attacca il creatore di questo movimento, si attacca Grillo, ma si sa che la gente che vuole rinnovarsi ma sempre vecchia rimane, pian piano, è comunque in declino, quindi sta commettendo un grosso errore comportandosi in questo modo. certo darà molto più filo da torcere, ci farà fare molta più fatica, farà fare molta più fatica a noi che vogliamo evolvere, che vogliamo cambiare le cose, ci darà filo da torcere, non lo metto in dubbio, ma sta commettendo dei grossi errori e sì, forse ci vorrà un po' più tempo, ma si autodistruggerà, si sta distruggendo con le proprie mani. E questa è la cosa che mi fa godere maggiormente. Bravi, bravi. Continuate così, che forse vincerete una battaglia, ma alla fine perirete anche voi. Maledetti esseri immondi. Quindi abbiamo una libertà da valutare, perché è vero che il regime americano ci ha salvato, ma non per amore. Non dobbiamo dimenticarci questo, che non ci ha salvato per amore, ma ci ha salvato per degli interessi propri, per poter mettere qui le basi in nato, per poter mettere le testate militari, eccetera, eccetera. Quindi non siamo stati liberati per amore, arrivano gli eroi che ci salvano per amore, arrivano gli eroi che ci danno delle cose per interesse, per averne in cambio delle altre. E uno potrebbe dire, è così da mondo e mondo. E qui torniamo al solito discorso, da dove non se ne esce? Da dove non se ne esce? Da che mondo e mondo non siamo mai in pace? Perché da che mondo e mondo non siamo mai in pace? Perché non facciamo nulla per il vero amore e per la vera libertà. E qui casca l'asino e raglia. Caspita come raglia! Mi sta facendo perfino male ai miei timpani, ma a tutte le ragioni del mondo! A tutte le ragioni del mondo! E' costretto a ragliare questo povero asino e ci dice, voi umani non avete ancora capito nulla. Voi umani non avete ancora capito nulla. Finché non farete le cose per amore e per la libertà dell'individuo, per il libero arbitro dell'individuo, andrete avanti a torturarvi nei secoli dei secoli. Ed è così! La storia ce lo insegna ogni giorno, ce lo fa vedere ogni giorno che è così. È così! Non se ne esce! È così! È così! Noi potremmo cambiare il sistema, potremmo eleggere chissà chi, ma se non ci mettiamo nella testa di fare le cose per l'amore dell'essere umano, del genere umano, e per la miglior condizione, la miglior e l'assoluta libertà possibile del genere umano, non otterremo nulla di fatto. Non otterremo nulla di fatto. Ci siamo evoluti dal punto di vista materiale, vediamo la tecnologia, vediamo le migliorie, ma dal punto di vista interiore siamo fermi lì. Siamo fermi lì. Siamo nella stessa identica situazione di coloro che crocefissero Gesù Cristo 2012 anni fa. nella stessa identica situazione non abbiamo fatto spiritualmente e interiormente mezzo passo avanti. Siamo ipocriti tanto quanto lo erano loro. e infatti ne vediamo i risultati. Sono palpabili, visibili, mettetela un po' come volete voi. Allora io credo che la riflessione sulla libertà che si manifesta di facciata e che si festeggia di facciata vada veramente stemperata dentro di noi. Bisogna veramente guardarsi dentro e dire ma io cosa faccio per la mia libertà e per la libertà degli altri? Come mi impegno? Ma soprattutto che ideologie porto avanti? Che ideologie porto avanti? Credo di essere solo un essere materiale che mangia, che beve, che dorme, che cammina e che poi un giorno andrà a marcire o in decomposizione o credo di essere qualcosa di più. Credo in me spiritualmente ma credo anche semplicemente di voler lasciare un segno positivo quando me ne andrò da qui. E allora se appartenete al primo caso menzionato penso che ci sia ben poco da dire ma se appartenete al secondo caso menzionato credo che una riflessione meriti di essere fatta. Allora pensiamo a un 25 aprile più nuovo a un 25 aprile che ormai è già passato ma che magari ci serva per poter dire da oggi che è il 26 proverò a pensare e a riflettere in modo diverso. se volete scrivermi evolutore chiocciolagmail.com se volete mandare qualche sms 392 85 67 290 il canale evolutore è un canale libero è un canale che trasmette i miei pensieri i pensieri dell'evolutore le mie riflessioni quando voglio e mi sento di condividerle ma può trasmettere se volete anche le vostre che poi saranno spunto di mie nuove riflessioni a me piace un sacco poter sentire la riflessione degli altri perché sono comunque sempre istruttive e comunque da ogni essere umano c'è qualcosa da imparare quindi ne vale veramente la pena evolutore chiocciolagmail.com per le mail 392 85 67 290 per i messaggi buona giornata a tutti alla prossima